stiamo realmente andando verso il pericolo di un lockdown energetico e questa è una domanda che insistentemente in forma quasi martellante abbiamo posto da un anno a questa parte era nostra convinzione infatti che la vicenda dei lockdown legati essenzialmente in quel momento all'epidemia non sarebbe stata una vicenda episodica limitata al caso pandemico era nostra convinzione infatti che venisse in quel momento forgiandosi un nuovo metodo di governo neoliberale basato sull'emergenza e poi anche conseguentemente sui lockdown o confinamenti domiciliari coatti giustificati di volta in volta in nome di emergenze sempre cangianti quella epidemica quella bellica e aventi come obiettivo finale un dominio politico una organizzazione politica delle masse tradotte di fatto agli arresti domiciliari ogni qualvolta il potere lo avesse deciso ebbene la domanda torna a risuonare in maniera preoccupante in queste ore si va verso la possibilità di lockdown energetici ciò sarebbe causato si dice dalla situazione in ucraina segnatamente dal modo con cui l'italia tra tutte si trova in difficoltà energetica per quel che riguarda il conflitto e dunque dobbiamo chiederci realmente se l'emergenza totale come anche è stata definita verso la quale stiamo procedendo o nella quale già de facto ci troviamo comporterà anche questo esito essenziale ossia lockdown energetici in ogni caso non sembra un'ipotesi così remota lo scopriremo presto bisogna tuttavia esserne consapevoli e noi abbiamo proposto già da un anno questa chiave ermeneutica per comprendere ciò che sta accadendo ben sapendo che l'ipotesi dei lockdown energetici non è un'ipotesi fuori dal mondo non è un'ipotesi priva di una sua tenuta lo scopriremo prestissimo